momenti di tensione in derra la lanza lungomare di crolla lanza perché due persone una coppia arrivava da corato quindi già non potevate venire da corato vabbè e vabbè siete venuti da corato per fare una passeggiata in più avete lasciato la macchina in doppia fila per mezz'ora ovviamente il cristiano che è rimasto sequestrato detto anche inchiavicato ha chiamato la forza pubblica ha chiamato la forza pubblica ha fischiato il vigile ha suonato il vigile ma non arrivavano la coppia non arrivava quando poi sono arrivati si sono palesati si è creato il parapiglia perché quello che è stato imprigionato quelli che l'avevano imprigionato nel frattempo è arrivata anche la polizia di stato c'era la polizia locale c'è stato veramente un piccolo manicomio poi però a quel punto se tu vieni da corato lascia la macchina in doppia fila per mezz'ora come possono non farti la multa perché vieni da corato a bari perché ancora zona arancione ragazzi fino alle 24 di domenica 9 maggio siamo in zona arancione non è zona gialla io ho messo la giacca chiedo scusa può darsi che vi ho creato delle difficoltà di comprensione perché ho messo la giacca gialla pensate che siete in zona gialla ma no è zona arancione il resto è storico stavamo noi di s servizio in cina in cina e perché l'ha bloccato per mezz'ora tra alcuni controlli documenti poi era un atto dovuto ne abbiamo dovuto fare anche una contestazione per quanto riguarda il discorso del covid quindi anche un po' di intelligenza bravo già venite da fuori mi chiamavano di doppia fila mezzo si infischiati a spelli abbiamo almeno salvato voi avete pure fischiato ma proprio perché sappiamo la situazione bravo sei volte stava la ps dietro quindi c'è stata anche tensione rispetto a quello che non poteva uscire esatto perché quello è stato bloccato è stato bloccato 45 minuti un po' di attrito un po' di attrito va bene ovviamente ci hanno fatto l'applauso arrivederci comunque avete tutta la nostra solidarietà il vostro lavoro ragazzi non ce l'abbia non ce l'abbiate con loro perché loro fanno quello che devono fare metteteci un po' di intelligenza le abbiamo fatto risparmiare almeno il carattrezzo quello le abbiamo fatto risparmiare il carattrezzo almeno il carattrezzo abbiamo fatto risparmiare